Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico che scorre generalmente regolare su tutta la rete autostradale in Fipilì. Proprio in Fipilì si ricorda che per lavori di ripristino dell'asfalto su viadotto Margherita fino al 2 novembre sarà in vigore uno scambio di carreggiata tra i chilometri 78,3 e 79,2 in direzione mare nel ramo di Livorno. Sulla statale 1 Aurelia proseguono i lavori tra Monte Pescali e Gavorrano con scambio di carreggiata fino a fine novembre in direzione nord. Scambio di carreggiata anche sulla statale 3bis Tiberina e chiusura dello svincolo di Pieve Santo Stefano Sud in entrate e in uscita in direzione orte. Fidiamo con il traffico ferroviario, si ricorda che nella giornata di oggi rimarranno chiuse al pubblico le biglietterie di Montevarchi, Massa e Pontremoli. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!